Signori e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria e mettiamola così, dalla maglietta del West Ham United Football Club Hammers, Hop the Irons, the Claret and Blue Army che ce posso fa? Sono le mie manie calcistiche, sono le mie piccole fissazioni che mi rendono, come dire, particolarmente bello, particolarmente figo e particolarmente affascinante soprattutto per la mia amatissima signorina Laura ti amo figliola, santa donna che mi sopporta, santa donna che mi sopporta, va bene allora, signori, torniamo sì questo video parlerà di uno dei miei aerei preferiti della seconda guerra mondiale ovvero sia il Bristol Type 156 Bofighter sì, 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 eccolo qui lui, questo qui, questo è un esemplare da cazza notturna per la precisione un Mark II F da cazza notturna è uno dei migliori aerosiluranti della seconda guerra mondiale un aereo leggendario, un aereo che ha fatto veramente, come si suol dire, il diavolo A4 quando si è trattato di fare la guerra eccone qua un altro esemplare eccolo qui, eccolo qua inconfondibile, il bulldog dei cieli il mastino dei cieli dà un'idea, come dire, di aggressività, di potenza, di assoluta carogneria i tedeschi lo chiamavano la morte nera i giapponesi lo avevano chiamato la morte sussurrante per via del rumore che faceva quando si avvicinava in picchiata ecco, questo invece è un Mark I F nel canonico tre viste eccolo qua e questo qui è invece un e sotto c'è il muso di uno degli esemplari da cazza notturna eccolo qua questo è il classico tre viste del Bofaiter un aereo intelligente diciamo intelligentemente concepito un aereo estremamente versatile un aereo potentissimo e dannatamente efficace la fonte è un articolo di Giorgio Gibertini tratto da aerei nella storia dicevo, come è nato il Bofaiter? allora, negli anni 30 e 40 cioè è spesso accaduto negli anni 30 e 40 che molti aerei nacquero come la cosiddette private venture le cosiddette iniziative private dell'industria e il Bofaiter è uno di questi aerei allora, verso la fine del 1938 il capo progettista della Bristol L.G. Fries aveva già realizzato il bombardiere ricognitore Bofort un discreto bombardiere leggero un discreto aereo silurante e che aveva soddisfatto una specifica ministeriale per un bombardiere silurante ecco, insomma, un bimotore allora, Fries si era reso conto che conservando ali, carrello e sezione posteriore della fusoliera del Bofort e coniugando il tutto con una nuova fusoliera e con un più potente apparato motore si sarebbe potuto ottenere un buon caccia bimotore a lunga autonomia allora, questo tipo di aereo in Inghilterra non era molto noto diciamo che noi in Italia stavamo studiando Lima, Ambro 57 i tedeschi stavano sviluppando prima il buon Focke-Wulf 187 Falk un aeroplano misconosciuto del quale dovrò comunque parlare e il Mesh-Smith Bf 110 Loser-Storan il prototipo la concezione l'archetipo del caccia pesante se vogliamo in Gran Bretagna praticamente non si aveva una grande considerazione del caccia pesante bimotore perché la sola specifica ministeriale emessa in proposito era la F11-37 allora Fries cercò di adattare per quanto possibile il progetto del nuovo caccia a questa specifica ministeriale la proposta diciamo era molto razionale perché consentiva grandi economie dato che impiegava parti già in produzione ripeto la parte posteriore della fusoliera e le ali del Bristol-Boford allora quest'idea fu sorprendentemente con intelligenza siamo sinceri accolta dagli ambienti governativi che erano impegnati in un vastissimo programma di ammodernamento delle dotazioni della Royal Air Force e il prototipo venne realizzato nel tempo record di soli otto mesi e volò il 17 luglio 1939 nelle mani del capitano Owens giusto due settimane dopo che il ministero aveva emesso la specifica ufficiale F1739 che diciamo calzava come un guanto proprio al Bristol Type 156 Bowfighter il nome a cui era stato insomma il nome con cui era stato battezzato questo nuovo caccia bimotone il contratto prevedeva la realizzazione di quattro prototipi e una prima serie di 300 esemplari allora entro il maggio 1940 i quattro prototipi furono tutti realizzati e contemporaneamente veniva allestita la linea di montaggio per gli esemplari di serie allora con questo tipo di lavoro ovvero sia mettere in parallelo la sperimentazione e la produzione in serie dicevo i tecnici della Bristol riuscirono a risparmiare molto tempo come dimostra il fatto che il primo Bowfighter 1 di serie fu consegnato alla Royal Air Force già il 27 luglio 1940 allora e grazie cioè grazie alla preveggenza dei tecnici della Bristol la Royal Air Force ebbe fra le mani un ottimo caccia bimotore un aereo che arrivò nel posto giusto al momento giusto ripeto grazie alla preveggenza grazie alla capacità progettuale e costruttiva del produttore la Bristol la Bristol ebbe l'intelligenza di creare un aereo utile pratico efficace e relativamente economico senza che il ministero gli enedesse cioè insomma gli insomma praticamente senza che il ministero emettesse una specifica in proposito e quando la specifica fu emessa il Bristol Bowfighter era praticamente già pronto ok allora il Bowfighter era un aereo decisamente esuberante perché con due motori Bristol Hercules da 1600 cavalli al decollo e con un peso insomma 17 metri di apertura all'area lungo 12 metri 60 alto 4 metri 80 una superficie all'area di 46 metri e 73 di 46 metri e 73 un peso a vuoto di 6387 chili e massimo al decollo di 9400 e un carico alare di 192 chili per metro quadro un carico di potenza di 3 chili per cavallo e la potenza di questo simpatico la potenza di questo simpatico mastino che vedete qua era decisamente esuberante per un per un aereo per un aereo di queste dimensioni rendiamoci conto che da solo cioè un umbo fighter un bo fighter aveva la potenza complessiva di 3 sparviero e 3 motori cioè 3 no scusate 2 sm79 sparviero che avevano un compito simile raggiungevano a me la pena la potenza del motore di un singolo bo fighter pensateci bene allora dicevo le prestazioni erano una velocità massima di 520 km orari una velocità di crociera di 437 km orari a 4500 metri faceva saliva di 9,4 metri al secondo con una tangenza pratica di 8800 metri aveva un'autonomia di 2400 km un armamento pesantissimo con 4 cannoni ispano da 20 mm con 240 colpi per arma più 6 mitragliettrici browning da 7,7 con 1000 colpi per arma e senza poi contare questa era la prima versione perché poi dopo la mark 6f aveva dei bristol hercules da 1670 cavalli con un carico di potenza addirittura come dire migliorato di 3 kg e 100 per cavallo quindi come dire le prestazioni erano del mark 6 quindi la versione più recente e più potente erano di 533 km orari a 4700 metri una velocità di crociera di 444 km orari sempre sui 4500 metri saliva di 10 metri e 16 al secondo con una tangenza pratica di 8000 metri e un'autonomia di 2380 km insomma un aereo dannatamente potente un aereo dannatamente tra virgolette cattivo considerato poi il fatto che poteva montare siluri bombe soprattutto poteva montare i razzi non guidati e soprattutto poteva montare i razzi da 127 mm non guidati che gli fornivano praticamente la potenza di fuoco di una bordata da caccia torpediniere che non è mica poco allora mettiamola così il bofighter non era un aereo propriamente soprattutto le prime versioni non erano propriamente aerei facilissimi perché praticamente fin dai primi voli sperimentali si vide che aveva dei problemi di stabilità laterale insomma tendeva un pochettino a scarrocciare diciamo così e durante il fuoco dei cannoni vibrava tendendo a causa del rinculo ad abbassare il muso che non è una caratteristica propriamente simpatica perché rende quasi impossibile il poter mirare correttamente però le necessità della Royal Air Force erano tali che i primi bofighter furono messi in servizio il prima possibile perché servivano disperatamente ecco qua furono distribuiti il più celermente possibile ai reparti operativi di caccia notturni che era la specialità veramente indispensabile in quei tremendi giorni e soprattutto le notti dei mesi invernali tra il 40 e il 41 allora i Mark 1f venivano consegnati alla Royal Air Force che provvedeva a montare l'apparecchiatura allora super segreta per l'intercettazione notturna il radar A-I Mark 4 già sperimentato sul Blenheim il Blenheim però era tutt'altro aereo siamo sinceri perché mancava sia del potente armamento sia della necessaria velocità massima per essere un buon intercettore allora con l'entrata in servizio del Bo-Fighter la situazione migliorò nettamente anche se l'operazione di intercettazione radar guidata dalla stazione a terra continuava ad essere piuttosto aleatoria insomma nel 40-41 la caccia notturna era ancora una specialità se vogliamo in fase decisamente embrionale e diciamo venne migliorata in seguito e in seguito si raggiunse la quasi perfezione se capite quello che voglio dire praticamente il Bo-Fighter durante questi tempi pioneristici della caccia notturna britannica sui ceni inglesi non ebbe chissà che chissà che successo in questo tipo di missioni ci fu un asso che si chiamava John Cunningham che con il suo fido operatore radar Jimmy Romsley ebbe modo di mettere insieme nel corso del conflitto più di 20 vittorie e erano due questi due assi appartenevano allo squadrone 604 distanza a Middle Wallop e diciamo furono tra i migliori piloti della caccia notturna britannica ripeto come ben sapete il sistema degli assi era profondamente diverso tra Luftwaffe e aviazione alleate ma ne abbiamo parlato più volte gli assi della Luftwaffe venivano come dire usati a consumazione mentre i piloti alleati dopo due o tre turni di servizio venivano spediti a fare gli istruttori per allevare le nuove leve di piloti allora in pratica alla fine di maggio 1941 quando diciamo si può dire il blitz contro l'Inghilterra si esaurì da solo in attesa di dare il via all'operazione barbarossa diciamo la caccia notturna i bofighter della caccia notturna britannica della caccia notturna britannica raggiunsero un totale di circa 60 vittorie insomma niente male considerati i tempi considerata anche la dotazione tecnologica decisamente rudimentale allora la quasi totalità dei bofighter mark 2 fu convertita in caccia notturna ma anche se gli attacchi notturni della Luftwaffe si erano praticamente esauriti la Royal Air Force non poteva certo permettersi il lusso di rilassarsi di abbassare la guardia diciamo e comunque sia le caratteristiche del bofighter la grande potenza di fuoco la grande autonomia rendevano il bofighter particolarmente interessanti anche per il pattugliamento oceanico e fu qui che il bofighter trovò la sua vera vocazione col coastal command della Royal Air Force con il comando costiero nel deserto cioè il bofighter vide la guerra anche nel deserto con circa 80 aerei degli squadroni 252 e 272 e dal maggio 41 i bofighter degli squadroni 252 e 108 iniziarono ad operare dall'isola di Malta la presenza sull'isola di Malta di questi incursori rese molto precaria la situazione dei rifornimenti via mare alle truppe dell'asse operanti in Africa settentrionale perché logicamente un incursore così potentemente armato un incursore così dannatamente efficace era in grado di fare veramente molto 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 male ricordiamoci i nostri aerosiluratori fecero miracoli con gli S79 ma gli inglesi avevano il bofighter che era un aereo di una generazione successiva che era un aereo dannatamente più potente dannatamente più bastardo rispetto al nostro gobbo maledetto ok praticamente l'evoluzione del bofighter andò avanti per tutta per tutta la guerra come dire si divenne un eccezionale incursore un aereo estremamente versatile un aereo estremamente come dire un aereo estremamente cattivo nelle azioni contro il nemico perché ripeto aveva un armamento eccezionale era una piattaforma di tiro eccezionalmente stabile nonostante i problemi di stabilità laterale una volta prese le misure era come dire un qualcosa di 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 terrificante cioè vedere il bofighter in azione era qualche cosa di terrificante e trovarsi nella linea di miro nella linea di mira di un bofighter non era propriamente molto molto salutare anzi ecco qua ne abbiamo un esempio perché qua c'è una fotografia ritratta una fotografia scattata dall'operatore radar e mitragliere posteriore che mostra un bofighter del bomber command fare centro insomma il bofighter era come dire un grande aereo sicuramente non perfetto perché ripeto aveva questi problemi di stabilità laterale che non furono mai totalmente risolti però ripeto era un aereo potente potentemente armato dannatamente efficace come caccia notturno di prima generazione ma ancora più efficace cattivo e feroce come come aereo da attacco navale come aereo d'attacco come aereo antinave insomma signori uno dei miei aerei preferiti eccolo qua il bofighter il bristol type 156 bofighter il mastino dei cieli il molosso britannico un un aereo forse non bello forse non propriamente adatto a tutti i piloti perché ripeto aveva caratteristiche decisamente difficili in certe condizioni di volo ma era un aereo che era in grado di fare tanto 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 male picchiava duro ed era un aereo a dir poco eccezionale nonostante i suoi difetti un aereo che mi è sempre piaciuto per la sua aggressività per la sua potenza per il suo essere come dire una sorta di underdog una sorta di insomma una sorta di outsider poco conosciuto un aereo che avrebbe meritato sicuramente maggior fama un aereo che ha fatto veramente insomma che ha fatto sentire veramente il suo peso nelle operazioni belliche britanniche su tutti i fronti della seconda guerra mondiale dal mare del nord fino ai mari del giappone il bow fighter fu sempre presente e fu sempre tra i protagonisti perché ripeto in mano a gente che ne conosceva i pregi e ne sapeva cavalcare i difetti era un aereo dannatamente efficace era un aereo dannatamente potente era un aereo in cui l'apparenza aggressiva e cattivissima non traeve in inganno perché era un aereo aggressivo cattivissimo era un aereo che quando apriva il fuoco era meglio starne il più lontani possibile tutto quindi cari signori bristol type 156 bow fighter il bulldog il molosso il mastino the hound gregor cligain no scusa sandor cligain il sandor cligain dei cieli se vogliamo the hound insomma un eccezionale aereo da combattimento un aereo che più di una volta mi ha fatto sorgere una domanda ma se gente come i nostri aerosiluratori ripeto ripeto questo era un aereo che apparteneva ad una generazione successiva a quella dello sm79 sparviero ma io mi sono sempre chiesto ma se questo accidente di se questo benedetto accidente di bow fighter ce l'avessero avuto i nostri buscaglia eichner bertuzzi buri giulio cesare graziani eccetera 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 quanto sarebbe stato meglio non potremmo mai saperlo perché come ben sappiamo i nostri aerosiluratori dovessero arrangiarsi con un aereo non eccezionale siamo sinceri come lo sparviero il bow fighter era veramente tutta tutta un'altra cosa insomma signori bristol type 156 bow fighter il mastino dei cieli il bulldog volante il molosso del coastal command della royal air force uno dei migliori aerei del suo tipo durante la seconda guerra mondiale indubbiamente quindi cari signori come sempre aspetto nei vostri commenti ulteriori considerazioni a proposito del del bow fighter aspetto come sempre ripeto i vostri commenti aspetto che mi facciate sapere che cosa ne pensiate come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao ciao